Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport. Il consueto appuntamento della nostra emittente con lo sport fiorentino e toscano. Quest'oggi apriamo parlando di Serie A, in particolar modo di una giornata che è già iniziata con l'anticipo del giovedì tra Lazio e Verona, che ha visto i biancocelesti imporsi per 5 a 2. Nella serata di domenica invece arriverà l'appuntamento, importantissimo per la Fiorentina, della gara del Franchi contro l'Inter. Alle 20.45 viola contro Nerazzurri in una partita che vale davvero molto per quanto riguarda la rincorsa al terzo posto e dunque ad una qualificazione Champions League davvero importante sia per la squadra milanese sia per quella fiorentina. Noi iniziamo ad analizzare la gara con il servizio d'apertura realizzato dal nostro Niccolò Ginassi. Settimana decisiva, quella della Fiorentina, che nell'arco di quattro giorni si trova a dover affrontare gli impegni stagionali più importanti. Domenica e giovedì i viola affronteranno rispettivamente, infatti, l'Inter in campionato e gli inglesi del Tottenham in Europa League, in un tour de force che vedrà gli uomini di Mister Sosa giocarsi le sorti di un'intera stagione. Stagione che può essere, se non decisa, sicuramente indirizzata verso un certo punto per quanto riguarda il campionato già dall'incontro di Domenica contro i Nerazzurri di Mancini. Quella del Franchi sarà una partita, infatti, dal valore altissimo con i viola e i Nerazzurri che si trovano ad ora distaccati da un solo punto in chiave Champions League e che quindi cercheranno entrambi di vincere senza risparmiarsi. Sono attesi più di 30.000 spettatori al Franchi che cercheranno di spingere i gigliati verso una vittoria che porterebbe ad un distacco più accentuato nei confronti dei Nerazzurri. L'arma di Sosa, contro Mancini e di Suoi, si chiama Nikola Kalinic. Il bomber è in cerca di riscatto dopo le ultime prove non esaltanti ed il tecnico portoghese, dopo averlo lasciato più volte in panchina nelle ultime giornate, lo rilancerà dal primo minuto, sostenuto sulla tre quarti, molto probabilmente, da Teglio ed Ilicic. A centrocampo, fasce occupate da Bernardeschi e Pasqual, che partirà al posto dell'acciaccato Alonso, mentre i centrali ci saranno sempre gli intoccabili Vesino e Borca Valero. Davanti alla porta, difesa da Tatarusanu, sarà compito di Roncaglia e dei soliti Gonzalo e da Stori, infine, monitorare l'operato di Cardi e dell'attacco Nerazzurro in una partita che diventa già fondamentale per la stagione dei Viola in ottica Champions League, soprattutto dopo i malumori succedutosi nell'ambiente cigliato dopo il mercato di gennaio. E oggi, a proposito della partita contro l'Inter, ha parlato in conferenza stampa anche il capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez. A partire dalle 13.30, infatti, era nella sala stampa Manuela Righini dello stadio Artemio Franchi e Gonzalo Rodriguez ha detto che ogni partita fa storia a sé, noi vogliamo vincere, però l'Inter è una squadra forte. Il capitano della Fiorentina, che è stato descritto in conferenza stampa proprio come uno dei simboli di questa squadra, ha detto che non c'è un solo giocatore, ma tutta la squadra, siamo un gruppo che ha sofferto, ma che è rimasto compatto e che è uscito dalle difficoltà. Poi, parlando dell'Inter, ha detto che lì davanti hanno giocatori pericolosi di livello mondiale, ma io ho fiducia che possiamo fare bene la nostra flessione, dipesa dal fatto che probabilmente è complicato ripetere l'inizio di stagione, le avversarie hanno imparato come giochiamo, noi in campo faremo di tutto per fare contenti i tifosi. E poi ancora sulle difficoltà viola nelle scorse settimane, Gonzalo Rodriguez ha dichiarato «Sono sempre stato tranquillo perché ho visto una squadra con la voglia di allenarsi bene e di giocare». E infine ha parlato poi Gonzalo Rodriguez nello specifico di Mauro Icardi, attaccante connazionale proprio di Gonzalo Rodriguez, entrambi infatti sono argentini, e parlando dell'attaccante dell'Inter ha scomodato un paragone importante Gonzalo Rodriguez, dichiarando Icardi è un grandissimo attaccante, è giovane e deve imparare tanto, ma ha talento e assomiglia ad Iguain, anche se il giocatore del Napoli al momento è molto più forte. Adesso spostiamoci a un argomento che ovviamente riguarda la Fiorentina, ma non il calcio giocato, infatti si parla del nuovo stadio in programma a Firenze. Si sa che la presentazione del progetto dovrà arrivare entro la fine di febbraio, i primissimi di marzo, ma ovviamente in questi giorni abbiamo seguito anche le polemiche dell'opposizione fiorentina, che ha detto in pratica che molto difficilmente questo progetto verrà presentato nei termini corretti, nei termini giusti, ovvero appunto proprio la fine di febbraio, i primi di marzo. A proposito di questo ha parlato anche l'assessore Perra, l'assessore allo sviluppo economico Perra, che sulla domanda del nostro Alessio Poggioni durante il programma Telegram ha risposto anche all'eventualità di una proroga, ovvero se verrà richiesta una proroga dalla Fiorentina. Sentite cosa ha risposto Perra. Non lo so, noi l'ho ripetuto più volte, se riterranno di dover mandare un'istanza motivata la valuteremo, come facciamo in tutte le procedure ad evidenza pubblica, non solo su questa, anche quando vengono acquistate delle penne, se dei partecipanti a una gara chiedono approfondimenti e se sono motivati vengono concessi, devono essere appunto istanze formali e motivate. Ricordo che è un atto di giunta, quello che dà il via a quest'operazione e quindi questo atto eventualmente dovrà essere discusso in quella sede. I giorni sono a scadenza, per cui o arriva una proposta, o arriva una richiesta, o non arriva nulla. Io mi auguro che la terza davvero non sia l'esito, ma sono sufficientemente fiducioso che non sia l'esito di quello che potrà accadere. Quindi Perra fiducioso entro la fine di febbraio, secondo lui verrà presentato il progetto dalla famiglia della Valle, della Fiorentina, per la realizzazione del nuovo stadio e a proposito dell'argomento nuovo stadio, in passato si è parlato anche dell'eventualità, nel caso non dovesse essere realizzata la nuova struttura di coprire il Franchi. Proprio in questi giorni è stato siglato un accordo, una convenzione tra FIGC e Credito Sportivo che metterebbe a disposizione dei club, dei comuni o di altri soggetti privati, proprietari o concessionari di impianti sportivi già esistenti, 80 milioni di euro per lavori di rifacimento, ristrutturazione o comunque miglioramento degli impianti sportivi. A proposito di questo, il nostro Alessio Poggioni, sempre nel corso di Telegram, ha chiesto all'assessore Perra se questa convenzione, firmata appunto da FIGC e Credito Sportivo, gli sembrava un indirizzo anche da parte del governo nei confronti di Firenze e nei confronti di Firenze nel caso dovesse essere abbandonato il progetto di un nuovo stadio, ovvero se questi fondi potrebbero essere utili per la copertura del Franchi. Perra però si è rivelato davvero negativo su questa eventualità, dicendo in pratica che è impossibile per lui coprire il Franchi. Allora andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore. Ma ora io non l'ho letta così, anche la Presidenza del Consiglio conosca il Franchi. Il Franchi è un bellissimo stadio, però che è tutelato, per cui quello è e tale rimane, su questo è stato sufficientemente chiarito negli anni passati, al massimo è stata tolta la pista di atletica che circondava il campo. Poi c'è un'altra caratteristica che forse ci siamo... Non si può coprire, dice lei. Io assolutamente no da quello che mi è noto, ma c'è un altro fatto che forse ci dimentichiamo. Lo stadio Franchi è dentro un quartiere residenziale, che è Campo di Marte. Oggi andare allo stadio è divertente, prendiamo tutti io la bicicletta, altri i mezzi e poi facciamo delle enormi fiumane per arrivare allo stadio, passando su una passerella in ferro sopra la stazione. Gli abitanti di quel quartiere, nei giorni della partita, che ci auguriamo che diventino sempre più frequenti con la partecipazione a tanti tornei, in realtà non è che vivano in una condizione normale. L'idea di spostare lo stadio, di farlo in un'area attrezzata, servita dalla tranvia, vicino all'aeroporto, con parcheggi, significa anche riprogettare una funzione che in questo momento non è più una funzione conciliabile con un quartiere come quello del Campo di Marte. E quindi avete sentito nelle parole di Perra, assolutamente no per la copertura del Franchi e poi dunque spazio al nuovo progetto, anche in relazione allo stato di stress, a cui sono sottoposti ormai da anni i cittadini di Campo di Marte, appunto il quartiere che ospita lo stadio Franchi. Questa è la direzione tracciata dall'assessore Perra, noi intanto chiudiamo la pagina dedicata alla Fiorentina e apriamo quella dedicata all'Empoli, perché abbiamo detto domenica ore 20.45, la partita tra Fiorentina e Inter allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ma sabato scende in campo anche l'Empoli impegnato al Castellani contro il Frosinone in un match importante per la squadra di Giampaolo per tornare alla vittoria. Infatti dopo l'ultimo pareggio si è allungata la striscia senza vittorie per gli Azzurri e allora la gara contro il Frosinone potrebbe essere davvero la giornata giusta per rompere questo digiuno dai tre punti. 25esima giornata di campionato ormai alle porte per l'Empoli che domani pomeriggio alle 15 al Castellani ospiterà i Ciociari del Frosinone. Sfida sulla carta abbordabile per gli uomini di Giampaolo che non dovranno però abbassare la guardia. All'andata al Matusa finì 2-0 per il Frosinone infatti che trovò la prima, storica, vittoria in Serie A. Inoltre gli Azzurri non vengono da un periodo particolarmente proficuo avendo trovato nelle ultime cinque giornate solo quattro pareggi ed una sconfitta. Allora l'incontro del Castellani potrebbe essere un'occasione per la squadra di Giampaolo per rilanciarsi, per ritrovare la vittoria magari sfruttando uno dei suoi uomini migliori che nelle ultime gare però non ha brillato come il suo solito ovvero Riccardo Saponara. Il fantasista azzurro non ha mai segnato nelle ultime sette presenze in campionato e nel match di domani cercherà di sbloccarsi sostenendo dalla tre quarti anche le due punte Pucciarelli e Maccarone. Per quanto riguarda la mediana invece Giampaolo si avverrà sempre della triade Zielischi-Paredes-Buchel mentre ci saranno cambiamenti nel reparto difensivo dove Zambelli occuperà la fascia destra partendo dal primo minuto a causa della squalifica di Laurini ed Ariaudo affiancherà Tonelli al centro con Mario Rui pendolino della fascia sinistra. Gli Azzurri al momento si trovano in ottava posizione a 34 punti a pari merito col Sassuolo. Le speranze per l'Europa League si sono affievolite dopo le ultime giornate che hanno visto i toscani a secco di vittorie. Ma il campionato disputato sinora dagli uomini di Giampaolo è sicuramente di alto livello per una realtà locale dalla rosa giovane come l'Empoli che comunque ha praticamente già ipotecato la salvezza. L'incontro di domani, che sarà diretto dal signor Di Bello può rappresentare però l'occasione per gli Azzurri di rilanciarsi, perché no, anche in chiave Europa League dato che per ora la matematica lo consente. Certo, è molto difficile che i toscani riescano a fine stagione a centrare l'obiettivo data la risalita del Milan e della Roma e della Lazio che ieri sera ha trionfato sul Verona di Lucatoni ma gli uomini di Giampaolo hanno già dimostrato che in questa stagione possono giocarsela quasi con chiunque. Intanto dovranno giocarsela col Frosinone in un incontro che potrebbe servire agli Azzurri per cercare ulteriore tranquillità in ottica salvezza e guardare anche un po' più in su in classifica. E adesso lasciamo il calcio e ci premettiamo verso la Serie 1 di pallavolo femminile con gli impegni del Bisonte Firenze e della Savino del Bene Vole Iscandici. I play-off e la salvezza due obiettivi da centrare per Savino del Bene e il Bisonte che questo fine settimana torneranno in campo alla domenica per il sesto turno di campionato. Alle 17 di domenica la Savino del Bene Vole Iscandici settima in classifica con 25 punti riceverà sul Taraflex del palazzetto di casa le temibili ragazze del Club Italia vincenti lo scorso weekend su Montichiari. La formazione allenata da coach Bellano reduce dalla convincente vittoria esterna su Bolzano all'andata vinse 3-0 e spera di replicare tale vittoria per continuare la rincorsa al sesto posto occupato attualmente della Foppa Pedretti Bergamo. Rispetto alla gara di andata Bellano e le sue ragazze si troveranno di fronte a un Club Italia più maturo, forte di 5 vittorie che hanno dimostrato come la formazione allenata da Bonitta possa mettere in difficoltà qualsiasi rivale anche grazie ad una Paola e Gonu in rampa di lancio. La giocatrice della nazionale italiana di origini nigeriane nonostante non sia ancora maggiorenne è infatti dodicesima nella classifica dei punti conquistati per set e nell'ultima partita di campionato ha mostrato tutta la sua classe mettendo a segno ben 36 punti. Alle ore 18 di domenica sarà invece la volta di scendere in campo per il Bisonte Firenze che andrà a far visita all'obiettivo il risarcimento Vicenza in un match salvezza che potrà dire molto sul futuro della squadra allenata da coach Vannini. All'andata Vicenza vinse per 3 a 2 al Mandela Forum nel weekend il Bisonte Firenze dovrà essere in grado di restituire il favore a domicilio. Vicenza è attualmente terz'ultima in classifica con 10 punti gli stessi della penultima Bolzano e 4 in più di Firenze. Ovvio che una vittoria riaprirebbe definitivamente il discorso salvezza per Firenze mentre una battuta d'arresto potrebbe segnare anche a livello emotivo la fine della lotta per non retrocedere. Vicenza reduce dal 3 a 0 subito in casa di Piacenza vorrà spezzare i sogni di Firenze ma la formazione fiorentina dopo il KO dello scorso weekend contro Bergamo dovrebbe recuperare appieno Calloni fermata lo scorso turno da problemi ai muscoli addominali e Turlea a mezzo servizio per la febbre contro la Foppa e con questi recuperi si sente sicura di poter trovare 3 punti d'oro. E allora seguiremo ovviamente il cammino di Savino del Bene Volle Scandici e il Bisonte Firenze entrambe le partite infatti saranno visibili sul nostro canale sul 96 del Digitale Terrestri a partire dalla prossima settimana con il classico appuntamento di mercoledì pomeriggio nel nostro pomeriggio sport per quanto riguarda la partita del Bisonte Firenze e quello invece serale di giovedì in prima serata con la riproposizione della partita della Savino del Bene Volle Scandici che come avete capito in questo fine settimana affronterà il Club Italia a squadra di Paola e Gonu giocatrice celeberrima ormai per aver militato nella nazionale italiana nelle scorse manifestazioni per quanto riguarda il nostro approfondimento sportivo sul weekend fiorentino adesso ci spostiamo in acqua andiamo a parlare di pallannuoto di Serie A1 e dell'impegno della Rarinantes Florenzia che se la dovrà vedere con il Circolo Canottieri-Ortigia quindicesima giornata di campionato per la Serie A1 di pallannuoto che vede i biancorossi della Rarinantes Florenzia sfidare una delle diretti rivali per la Corsa Salvezza ovvero il Circolo Canottieri-Ortigia gara importantissima per gli uomini di Vannini che non vengono certo da prestazioni esaltanti nelle quali hanno avuto anche non poca sfortuna nell'ultima giornata contro l'ACC Napoli i fiorentini infatti non hanno sfigurato subendo però una sconfitta per 9 a 10 proprio al suono della Sirena dai napoletani che ha lasciato veramente l'amaro in bocca ecco che allora la trasferta di Siracusa diventa per i biancorossi fondamentale per provare a risalire in classifica e riavvicinare proprio i siciliani che si trovano ad 8 punti appaiati alla società sportiva Lazio Nuoto la Rari da parte sua si trova a 4 punti ed una vittoria significherebbe allora davvero rimettere in discussione la lotta a salvezza all'andata la squadra di Vannini riuscì ad imporsi contro i siciliani con una vittoria che resta però ad ora l'unica di questo campionato per i biancorossi domani alle 15 la Rari è dunque chiamata a mettere in scena una gara di alto livello per mantenere buone le prospettive di salvezza in un incontro che dirà molto sul futuro che per ora non sembra poter essere roseo della Rari Nantes Florenzia e lasciata la palla a nuoto adesso parliamo di pallamano in particolar modo della serie A maschile e del girone B che vede impegnata la formazione di Poggio Acaiano della pallamano Ambra per quanto riguarda la squadra di Poggio Acaiano attualmente terza in campionato terza in questo girone B dopo un turno di riposo arrivato nello scorso weekend arriva all'impegno contro la capolista Romagna infatti si giocherà domani alle 18.30 in casa di Romagna la partita Romagna-Ambra come detto Romagna che è la squadra che sta guidando il girone B con 15 partite vinte in 15 gare giocate per quanto riguarda l'Ambra invece in 14 gare disputate sono 9 le partite vinte una gara vinta ai rigori e 4 partite perse attualmente la formazione dei Verdi di Poggio Acaiano si trova terza come detto in classifica con 29 punti preceduta da Terraquilia Carpi che occupa il secondo posto con 33 punti e poi da Romagna come abbiamo detto prima in classifica con 45 punti come detto l'Ambra nell'ultimo turno di campionato ha riposato e allora l'ultima partita disputata dalla squadra di Poggio Acaiano è quella che risale al 30 gennaio 2016 quando arrivò la vittoria per 33 a 19 sulla Lauciana Mosconi Dorica squadra peraltro impegnata proprio con l'Ambra a cercare di ottenere il terzo posto in classifica per quanto riguarda il Terraquilia Carpi invece rivale diretta dell'Ambra per il secondo posto la formazione appunto emiliana andrà a far visita al Bologna quarto in classifica allora sarà importante seguire anche il risultato di Bologna Terraquilia Carpi per capire se Carpi verrà fermata da Bologna e quindi se l'Ambra potrà avere ambizioni anche di raggiungere il secondo posto in questo girone B di Serie A maschile andiamo adesso a parlare anche di basket perché arriva in questo weekend un altro appuntamento importante per la Fiorentina basket infatti la squadra allenata da coach Stefano Salieri affronterà sul proprio campo sul parquet del palazzetto di San Marcellino la Gaga Milano Orzi Basket partita in programma per domani alle 21.15 anche questa partita ovviamente è una delle partite che vi offriremo nel corso della prossima settimana a partire dal lunedì nel pomeriggio sportivo di Teleiride infatti potrete seguire la replica della gara con Milano Milano che attualmente è seconda in classifica ma in realtà prima pari merito con Udine quindi 36 punti per Milano 36 punti anche per Udine che peraltro è stata l'ultima rivale della Fiorentina basket Fiorentina basket che proprio contro Udine è uscita sconfitta e adesso vuole provare a ottenere un risultato importante e sognare l'impresa proprio contro Milano anche perché in gruppo dovrebbe rientrare Jacopo Valentini uno dei giocatori più importanti di questa Fiorentina basket e soprattutto giocatore che da quando è arrivato a Firenze ha dato una svolta a tutta la stagione dei Viola attualmente la formazione di Salieri si trova a quart'ultima in classifica con 12 punti frutto di 6 vittorie e 14 sconfitte concludiamo parlando anche di calcio femminile altra grande esclusiva del palinsesto di Teleiride io vi ricordo infatti che tutti i lunedì sera dopo Viola Express il nostro programma dedicato alla Fiorentina che inizia alle 21.50 di lunedì vi offriamo sempre la replica della partita della Fiorentina femminile e allora sarà importante anche seguire questo appuntamento che vi riproporremo quello della gara della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A femminile con la Fiorentina che andrà a far visita al grafi studio Tavagnacco in una partita che ovviamente le ragazze di fattori vogliono vincere per dare continuità a un periodo molto positivo e per mantenere il primato in classifica ricordiamo che al termine della stagione della Serie A femminile le prime due classificate in campionato accederanno alla Champions League femminile allora c'è grande attesa per capire se il nuovo progetto femminile della Fiorentina riuscirà subito al primo anno a ottenere un risultato così prestigioso come appunto la qualificazione alla Champions League del calcio femminile peraltro finale della Champions League del calcio femminile che quest'anno si disputerà al Mappei Stadium ovvero all'impianto che ospita le gare interne del Sassuolo quindi calcio femminile che sempre più anche in Italia sta ottenendo grandi soddisfazioni e grande rilevanza anche grazie al lavoro di Teleiride che comunque vi offre ogni lunedì la replica della partita della Fiorentina femminile per quanto riguarda l'appuntamento di T-Sport di oggi abbiamo concluso io vi ricordo però che a partire dal lunedì ci sarà un piccolo cambiamento all'interno del nostro palinsesto con questo appuntamento quello con T-Sport che non sarà più nell'orario che avete imparato a conoscere delle 18.30 ma si sposterà invece alle ore 19 per consentire proprio alla nostra emittente di dare più spazio anche a un'altra disciplina sportiva che Teleiride segue con grande passione ovvero il ciclismo e allora vi ricordo che appunto con l'appuntamento delle 19 di T-Sport non cambieremo praticamente nulla all'interno della nostra rubrica d'approfondimento sportivo ma anzi andremo ad aggiungere un appendice dedicato al ciclismo un appendice importante che ci porterà alla scoperta di tutti i campionati e di tutte le corse più importanti della nostra regione e della nostra nazione per quanto riguarda T-Sport come detto abbiamo concluso dunque da parte mia un saluto e un arrivederci ovviamente ci ritroveremo dunque lunedì a partire dalle ore 19 in vostra compagnia analizzeremo tutti i risultati del weekend sportivo e poi ovviamente ci proietteremo verso i nostri programmi dedicati al calcio di Serie A ovvero A come azzurro che rimarrà invariato alle 21.20 di ogni lunedì e Viola Express come detto anche in precedenza a partire dalle 21.50 con tutti i temi della Fiorentina trattati in studio attraverso l'analisi di Erika Calvani dei nostri ospiti e di tutti i contributi video e grafici che tutti i lunedì mettiamo a disposizione a disposizione di tutti i tifosi della Fiorentina è davvero tutto per quanto riguarda T-Sport allora non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleirte Grazie a tutti